facciamo arrabbiare qua l'affare eeeh che è successo lì ragazzi un saluto a vostra startide siamo su clash royale ricordate oggi c'è il torneo di clash royale alle 5 del pomeriggio in live aperto a tutti quindi portate parenti figliocci, cani, gatti cugini, nipoti, zii zii, nonni, no abbiamo capito tutti quindi io vorrei provarci oggi la sfida se non sbaglio del campione nuovo attiviamo la sfida che è gratis, unisciti eeeh mi divertirò un bot a usare a lui che è illegale completamente, gli scheletrini bisogna stare attenti perché lui fa un casino della miseria e non si ferma mai però li devo mettere perché toglie i tank il mio moschettiere, il mio bene amato moschettiere assolutamente il mini pecca così lo ferma e non lo trancia la mia amata fireball poi dov'è la scarica? eccoce la qui pure quanto ne manca? ne manca solo uno forse gli sgherri sì, ma secondo voi può andare bene o ci sono troppe spelle? ce ne vorrebbe solo una è che uno deve stare attento se lancia roba estranea? dai ragazzi proviamo tanto è gratis battaglia parà allora che dici? Edson, ci fai la cortesia facci vincere Edson facciamo togliere qua la roba no, e purtroppo ci è arrivato non ci posso fare nulla ci è arrivato proprio con cattiveria Edson, che ti incacchi che già la miseria è arrivata fino a lì e no, purtroppo dovevo metterci quello boom boom che è? che è successo? non ho capito ma non è stata la mia roba là che è successo? gli ha implosi il gran cavaliere ma come? questo già lo so che è così io non ci posso no, che ci metto quello? io sono un pazzo io so sono un pazzerello aspetta, attenzione veramente non ci ho fatto più caso alla strega sono un pazzissimo non so se ci arriva boom, no, non ci è arrivato boom boom quanto danno che ci fa quello ragazzi enorme buono boom ok allora il mazzo funziona Edson, mamma mia che dito dove non batte il sole che sei figlio mio aiuto dai che ci metti i cosi? no? non li ha messi non li ha messi facciamo così allora, visto che stanno puntando l'oro facciamo togliere anche a lui purtroppo lui mi ha picchiato lo stesso lui adesso c'è il gran cavaliere immagino, no? è vero che c'è il gran cavaliere? la strage boom boom ci arriva a dargli un colpettino buono ci sono arrivato perfetto proprio mettiamo questo facciamo così sì, certo ti sto facendo proprio togliere i miei sgherretti subitissimo guarda aspetta faccio così così ti tolgo tutto quello che rompe le scatole facciamo così bella giocata grazie anche tu sei molto bravo a giocarci boom andiamo a pulire anche da quella parte facciamo così e diamogli un aiuto dall'altra qui oh e siamo entrati finalmente dai questo è portato a casa ragazzi buono e questo è fatta direi che si può iniziare anche con questo ma che palle perché non mi metti il mazzo girato bene voglio il moschettiere all'inizio lei sta giocando o no? signor giovine boh sì, sta giocando ma perché è aspettato fino all'ultimo? ok, questo è uno di quelli che completamente se ne sta lì a girarsi i pollici e poi all'ultimo ti fa le provate giusto? dovrebbe essere così mettiamoci a lui boom vediamo ora dovrebbe avere le frecce se c'è le frecce siamo rovinati no c'ha peggio anche se comunque il colpetto l'ha tirato di là boom buono buono ok perfetto direi no 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 non ti rischierà a fare ste cose meno male che non sta colpendo più la torre stava colpendo all'inizio la torre ora lui rimette il santissimo pecca vero? e l'ha rimesso ah che pazienza che ci vuole con questo ora se gli tira dietro lui il cavaliere siamo nella cacca perché lui difende benissimo no? l'ha tirato all'ultimo? va bene visto che ci ha perso tempo io approfitto di usare lui no mannaggia della miseriaccia vai che corri sembra che devo andare in bagno con i capelli svolazzanti andiamo verso il cesso forza signor Young dai che sta giocando bene no vero comunque stava giocando bene c'è il mazzo counter però vabbè non gli sta riuscendo come vuole ha quittato grazie signor Young invece di farci perdere tempo è stato eccellente andiamo avanti allora ragazzi ho fatto un piccolo cambio nel mazzo ho messo invece delle come se degli sgherri ho messo le frecce e invece del aspetta come si chiamava l'altro invece della fireball ci ho inserito non mi ricordo aspetta che devo andare a controllare un attimo aspetto che gli esce fuori ah vediamo se pure lui ci ha messo la strega perché già ci hanno rotto l'anima no non ce l'ha messa la strega ci ha messo lui quello va bene picchio tutti con queste dai ma che fa faccio così no eh ma sono uno struzzo allora stupido ahiai che problematico che sono certe volte ragazzi cioè quello si è fregato la torre tutta se l'è fregata proprio andiamo di qua purtroppo non c'ho nulla per poter difendere da quella parte dai addirittura disperazione assoluta da parte sua che ci ha usato addirittura eh vabbè che ha funzionato comunque ha fatto il suo poco ma l'ha fatto ci è rimasto male che ci ho usato là i barbariscelti ci è rimasto proprio male male c'hai tutto tu qua tutto c'hai cioè che dobbiamo fare buono e meno male che gli ha dato un colpo pure là alla alla fornace ci sta tantissimo buono vai vai fai sto danno vai sto danno con cattiveria devo stare attento a giocarci il mazzo il mazzo funziona è che purtroppo io prima ho voluto fare le robe strane facciamo così facciamo di qua ok perfetto andiamoci a togliere anche a lui boom boom facciamo così vediamo se riesco a farlo distrarre mettiamoci anche a loro vediamo che cosa succede mettiamoci anche a tutto mettiamo tutto 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 non serve a niente dai boom eeeh tutto abbiamo attivato dai e che cazzo aspetta facciamo così oh ma veramente questo proprio c'ha la cattiveria nel sangue oh basta hai rotto vai che mi difendo da questa parte certo sicuramente figlioccio via perfetto allora serve uno di elisir quindi faccio così faccio così facciamo così andiamo da questa parte così almeno va a fare danno anche da quell'altra ragazzi non ci ho potuto usare la scarica perché non ce l'avevo subito e quindi mi sono distratto piano 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 come che si suol dire si arriva lontani lui sta cominciando pure da dietro va bene mi sta bene eppure ce lo potevo tirare il moschiettiere a tradimento lì davanti ci si poteva proprio tirare ma vabbè se io faccio così facciamo di qua boom io andiamo a schiacciare quello troppo avrei bisogno delle cose che volano bisogno di robe che volano facciamo così mettiamo di tutto di qua così lo facciamo uscire pazzo ora una cosa la devi fare dai boom ragazzi scusate all'inizio ci ho giocato da schifo e poi l'ho recuperata andiamo alla prossima ragazzi ovviamente non vi nascondo che ho tagliato due partite perse non ha senso che ve le metto perché sennò il video arriva a due chilometri che poi non so ancora se ce ne perderò qualcun'altra quindi mi sa che il video verrà di 15 minuti non lo so se vi fa piacere no 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 così meno male che l'ho fermato di là e non gli lascio abbastanza spazio da non farlo rimbalzare perché lui rimbalza a sole ed esclusivamente se le truppe sono molto vicine meno male che c'ho pure questo almeno rompiamo le scatole dai dai che il danno ce lo si fa perfetto boom boom e boom perfetto che almeno lui continua a dare colpi anche lei il moschietti re sotto torre non si può fermare bella giocata grazie barbalù barbabubloblahala barba chi ah scusa io ti ho detto grazie ma sei molto gentile ma vabbè andiamo se tira un colpo di là ce la prendiamo la torre e a voi ce lo diamo un colpetto anche al maghetto che rompe le scatole lì ok ce l'abbiamo fatta visto che tu avevi sprecato lì con la torre infernale iiii cosa avrei messo tu lì tu pazzo riesco a toglierla penso di sì dai che un colpo lo tira e l'ha tirato cioè veramente dai 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 che li sta togliendo tutti buono è che purtroppo c'è quello che è illegale vediamo se riusciamo pure a difendere da quella parte dai boom dai che anche là il barbarello è riuscito ma che c'aveva doppio cioè il domatore più la domatrice ma come sta giocando questo stava giocando bene all'inizio se ne è andato proprio con la disperazione eh ma tu ti prendi quella ma io mi prendo l'altra mi dispiace è questo che accade allora facciamo così un attimo solo distraiti non si è distratto mettiamoci questo attesione no no eh non è che dobbiamo fare le provate e poi ci andiamo a morire a mazza dai quest'altra è anche andata ragazzi meno male che non me ne sto facendo perdere più altrimenti poi veniva lungo tre chilometri il video andiamo andiamo che te rabbi che so gratis aiuto sta gente aiuto ah ecco libricino anche per noi e ce lo dobbiamo usare o ci faccio il facciamo il gigante royale che dite centomila mamma mia non si può tenere questo poi lo proveremo ragazzi più avanti lo proveremo però adesso stiamo facendo la sfida però almeno ce lo siamo portati di qua allora prendiamoci anche questo grazie gioco comunque buone tutte queste cose sta regalando clash royale sta dando una botta al gioco incredibile facciamo l'ultima andiamo così allora dimmi che è l'ultima buh facciamo faccio così non so neanche che cosa peccato che non corrono più come prima i barbari scelti non difendi non difendi ma come ma dovevi difendere aspetta aspetta così almeno lui ha evitato di prendere i colpi da quella parte e caspita dai dai che togliamo tutto perfetto oh perfetto e che tranne quella schifezza non muore eh tanto l'olgrider di cacca lui c'è il mazzo principe nero e principe normale dai che un colpettino glielo diamo ok ok sono contento di questa cosa mi sa che ci dobbiamo usare a lui poi è un po' incasinato diciamo così lo splittiamo dai che almeno ci dividiamo i colpi invece di usare il gran cavaliere che quello ci serve come il pane per andare a difendere la marmaia che sta per arrivare dai dai tiragli un altro colpo buono questo mi sa che elude il suo colpo se ci riusciamo prima che si ragazzi elude i colpi mamma mia ma è cattivissimo che elude così i colpi questo dai 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 ti prego ti prego eh ma tanto c'è quello che rompe le scatole io non ci riesco a mettere a piazzare a lui vero vabbè lo piazza e poi torna indietro wiii tu ti fai tu gli astanti wiii ora mette la valchiria eccola ormai l'ho imparata a memoria il suo mazzo difendiamo così dai mezz'ora ok wiii dai che ci sta tantissimo così eeeh che dite us faccio così difendo con questa roba qua cavaliere io buh voglio fare la provata del secolo così almeno vado a picchiare pure di là quella parte no niente volevo fare una preview ma non ci sono riuscito invece non li ha buttati ai toglilo 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 un altro colpo buono e così almeno si toglie ora lui corre dovrebbe killarlo il moschettiere così questa no ma sei uno struzzo sei uno struzzo ma come si fa ma come ti permetti dai ragazzi questa mi sa che è stata portata pure a casa voglia oh il mazzo ha funzionato con i barbari scelti è incredibile cioè mi è bastato mettere quelli comunque sono contento ragazzi ne ho perso due è inutile che ve le aggiungo se no sono altri sette minuti perché sono tre minuti e mezzo quasi a partita visto che c'è pure l'overtime durano vent'anni ragazzi per questo video è tutto io spero che siate felici che ci abbiamo fatto comunque il gigante royal a 14 proprio illegale questa magari ce la faccio nei prossimi giorni lasciate mi piace iscrivetevi commentate e condividete in descrizione trovate instagram e tiktok follow what se volete scrivermi ricordate che oggi c'è il torneo di clash royale alle 5 del pomeriggio mi trovate ogni giorno in live con bro stars stumble guys clash royale e pokemon unite è tutto ciao 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 iscriviti Grazie a tutti.